Ancora una riunione, probabilmente non l'ultima, tra i tecnici dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il Ministero della Salute. Oggi sul tavolo le eventuali ulteriori indicazioni riguardo all'utilizzo del vaccino anticovide di AstraZeneca. Si dovrà certamente attendere l'ultima parola, quella dell'Agenzia Europea dei Medicinali, attesa entro domani su una eventuale correlazione tra il vaccino e di rarissimi eventi trombotici segnalati in vari paesi dell'Unione Europea. Per maggiore precauzione, dice il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri, è possibile che l'Agenzia Europea dei Medicinali indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anticovide di AstraZeneca, precisando tuttavia che questo è successo anche per tanti altri farmaci e che nel caso di AstraZeneca il vaccino è stato utilizzato in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi e che non vi è ombra di dubbio che vi sia un rapporto rischio-beneficio positivo. I casi segnalati all'AIFA come sospetti riguardano soprattutto persone di età inferiore ai 55 anni, ultimo in ordine di tempo. A essere segnalato è il caso di Mario Turrisi, l'avvocato di Tusa di 45 anni, che è ricoverato al Policlinico di Messina in gravissime condizioni per una trombosi. Era stato vaccinato con AstraZeneca due settimane prima del malore e al San Martino di Genova è morta un'insegnante di 32 anni, vaccinata il 22 marzo e arrivata al pronto soccorso con una forte emorragia cerebrale da trombosi. In entrambi i casi al momento non è stata stabilita alcuna connessione fra vaccino e trombosi. La psicosi però è partita e si fa sentire forte nei dati che vedono già migliaia di cittadini, anche in Sicilia, che hanno rinunciato alla prenotazione per sottoporsi al vaccino a AstraZeneca. La psicosi però è stata stabilita al vaccino a AstraZeneca. Grazie. Grazie.